Un saluto a tutti i lettori di Tecnoiute.it In questo nuovo video oggi andremo a mostrarvi le migliorie apportate a Windows 10 Mobile dalla nuova build 10586.122 che come potete vedere noi facciamo girare su un Lumia 930. Il primo bug fix che è stato apportato è sicuramente quello della possibilità ora di utilizzare la tastiera swipe o la word flow come dice Microsoft anche all'interno della barra di ricerca o barra degli indirizzi di Microsoft Edge. Come vedete ora questa funzione viene eseguita correttamente. Lo stesso browser in realtà ha forse subito una sorta di ottimizzazione anche per quanto riguarda le prestazioni. Non che già prima non fosse abbastanza veloce ma sicuramente ora si sente che c'è quella spinta in più invece che prima mancava. Ancora siamo lontani dalla perfezione però sembra sicuramente che Microsoft si sia messa sulla carreggiata giusta. Per quanto riguarda invece i due bug dei quali sicuramente vorrete essere al corrente ovvero quello della mancata trasparenza nella lista delle applicazioni nel momento in cui si va a tornare indietro oppure il bug relativo allo scorrimento apparentemente senza controllo dei brani in ascolto quando si va a premere i pulsanti del volume questi bug sono ancora rimasti. Ma Microsoft sembrerebbe averli corretti già nelle nuove build di Redstone dunque è legittimo pensare che già prossimamente con la nuova build 164 che dovrebbe fare il debutto secondo ovviamente alcuni ultimi rumor nel corso della prossima settimana Microsoft sicuramente inserirà questi bug fix anche nelle build di Threshold 2 Per quanto riguarda invece le prestazioni generali del sistema sembrerebbe che anche queste abbiano subito una sorta di accelerato ora questo è sicuramente un dispositivo abbastanza potente però vi assicuro che anche sull'Umia 520 e dunque su un dispositivo che ha diversi anni alle spalle che già allora erano entry level la mancata reattività ormai è soltanto un ricordo ancora non siamo a livelli da primato però sicuramente è apprezzabile il lavoro di Microsoft che anche su terminali entry level sta dedicando loro un'altra cosa che ho notato è invece un problema che riguarda la cancellazione della cronologia in Microsoft Edge ora è stato cancellato tutto in maniera immediata ma vi assicuro che prima ho notato invece che restava la scritta cancellazione della cronologia in corso per diverso tempo senza la possibilità di risolverla se non tornando indietro un'altra miglioria che invece ho notato è quella relativa alla fotocamera adesso quando si va a scattare una foto e poi si va nell'album la scritta completamento in corso adesso resta come vedete per pochissimi secondi mentre prima invece le foto prima di essere completate dal software di gestione impiegavano diverso tempo quindi sicuramente da questo punto di vista è stato fatto un buon lavoro secondo sempre anche gli ultimi rumor dalla prossima settimana dovrebbe iniziare il rilascio ufficiale di Windows 10 Mobile e mi sento di dire che forse finalmente è arrivato il momento giusto visto che a parte qualche ultima miglioria e qualche ultimo affinamento il software sembra finalmente maturo un saluto